Con Marco stavo così bene, Marco non poteva utilizzare le gambe Pisciò una busta a 24H Non si è mai lamentato, non ho mai sentito lamentarsi Marco Marco era così solare e allegro, pure se non ci capiva niente Vabbè che mi sa che Marco non nemmeno percepiva dov'era Però era bellissimo, poi arrivato a Sobanese a romperca Che sbadato Marco mi faceva cose veramente divertenti C'è stato un momento in cui Marco mi guarda Inizia a ridere e mi fa L'altra sera la tua collega mi ha dato una busta Io gli appoggiavo un po' il gioco a Marco Ci parlavo anche se tutto quello che diceva non aveva senso Io ci parlavo comunque e gli arreggevo il gioco Marco io gli faccio che vuol dire? Mi fa da sopra mi ha dato una busta con la corda Una busta molto grande E io ho fatto che c'era dentro a sta busta E Marco mi fa C'eri tu Cioè? Ma c'era uno uguale a te E io ho fatto Ah E mo' do sta sta busta? E lui mi ha detto Nell'armadio Mi giro e c'è dall'armadio E mi fa Vogliamo aprirla? E io ho detto Da va bene Ok Vado verso l'armadio Apro l'armadio E dentro non c'era un cazzo delle sue scarpe Nike E faccio No c'è stata la scatola delle scarpe Marco si fa Si impanica un po' E poi fa Un cagnolino E ho detto Eh? Che vuol dire un cagnolino? Ma ho visto un cagnolino E ho detto No no non c'è nessun cagnolino Nell'armadio Marco Vabbè queste erano le mie conversazioni Con Marco Un po' nel NPC Che vuol dire un cagnolino